Sono stati avvistati i Rainbow Friends nella vita reale Sono stati avvistati su una strada buia Vicino ad un parco di sera Porca puzzarda Le aveva avvistate una ragazza Molto spaventata ovviamente E adesso noi andremo a cercare i loro segreti qui su Roblox Parte 2 nei commenti Io qua sono con degli amici che non parleranno Perché oggi indagheranno con me i misteri dei Rainbow Friends Porca puzzarda raga io ho paura Raga sto vedendo un'introduzione molto spaventosa purtroppo Cioè perché mi sto cagando addosso Siamo noi che ci stiamo correndo E non so se ci siamo insieme tecnicamente Sì io spero Sta tagliando Dice Ah le cose di sicurezza Le Mesh Boots Oddio Cavaliocchi Chi siete? Cosa state facendo qui? E Nick che fa Un due Un due Che cosa sta facendo? E lui dice Mostri dite? È solo la vostra immaginazione Idioti Ha detto anche Perché non mi aiutate a trovare il Sauce Light? Eccolo Questo è il Red dei Rainbow Friends Lui è stato avvissato praticamente nel parco Ma non solo lui Anche altri Tipo Blue E Purple E questo è Green Green non so se era stato avvissato Però di solito viene avvissato fra i palazzi Poi non so se è vera sta cosa raga Cioè secondo me no Dice Questo sarà divertente Siamo qui dentro Dobbiamo trovare 25 luci Sarà un problema Perché chiaramente qua ci sono i tizi che ci inseguono Cioè Green Purple Tutti quanti i Rainbow Friends Porca puzzarda Amici colorati Ho paura amici Purtroppo non potete parlare Ho trovato una lampada Posso metterla qui dentro? Sì mettiamola Perfetto Insieme ce la faremo Siamo in 25 raga Siamo Cioè finiremo tipo in due secondi Ne ho già trovati due Io sono efficientissimo E ho trovato delle cose che si impallano Stiamo cercando le luci Quanto è divertente cercare le luci Adesso però voglio vedere dove Quello è Green dei Rainbow Friends Oh mio dio mi metto la scatola Mi scatolo tutto Raga ho trovato Green Che mi stava fissando per un qualche motivo Mio dio raga ho paura No 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 mi sta cagando Raga raga B B B Porca puzzarda Porca puzzarda Porca No 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 Blue non venire Annulo qualsiasi maledizione E interagisco positivamente Interagisco Interagisco Allora abbiamo solo 11 luci Dobbiamo cavarcela ragazzi Dobbiamo assolutamente riempire questo lampadario Cosa volevo dire Mmm non capisco come mai però Ci sia questo mistero dei Rainbow Friends Qui Perché ricordiamoci che noi Dobbiamo trovare tutti i misteri dei Rainbow Friends Anche per capire come si comportano loro Nella vita reale Che non so se è vera Non so se è vero Se esiste oppure no Però hey ciao come stai Tutto bene Però se esiste È meglio Sapere già da prima Quali sono i loro segreti Giustamente Intanto Io sto andando Su questa ferrovia Funivia Ok E tecnicamente qui potrebbero esserci delle luci Utili Davvero tanto utili Breed Penit è stato Quindi Breed è il nostro amico purtroppo è stato trovato Accidenti Scatola Paura No non esistono Non ci sono Raga è qua dentro Lo vedete Oh mio porca puzzarda Guardate si muove proprio così nella vita reale Immaginatelo questo fra i palazzi È una cosa veramente brutta Che non auguro assolutamente a nessuno Ok raga Green è andato Ho trovato una luce Raga no c'è blu però Accipicchia No 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 raga raga c'è blu C'è blu porca puzzarda Porca puzzarda via Ok ho messo la lampadina qua Adesso mi scatolo prima che sia troppo tardi Perfetto ho altri 5 monetine Perfetto Adesso breed metti le due lampadine che hai trovato Ok ragazzi il mio amico ha preso Tutte quelle luci che mancavano Che erano 4 Adesso stiamo andando Però attenzione Blu No 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 mi sta prendendo No non me dio No 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 c'è purple c'è purple Che cos'è quella roba Mi ha ammazzato Ok raga la stanno completando Ok abbiamo finalmente fatto questa cosa Adesso vediamo un attimo che cosa ci dice Ah vedete c'è il segno di blu Sul cielo e dice Ehi hai sentito che cosa Si l'abbiamo messo in noi le lampadine signore Siete bravi a trovare le cose ha detto il signore E lo sappiamo grazie signore Quello è blu per caso Oh no Venire qua è stato veramente uno sbaglio Forse questo ci può aiutare Quel coso lì Cioè ma che caspita sta dicendo Questo chi è raga Forse uno dei nuovi rainbow friends Può essere porca puzzarda Guarda Che cosa Chi ha deciso di mostrarsi Sono sorpreso Dice Red Restiamo solo io e Brid Doviamo trovare le gas cose adesso Niente vabbè raga Bisogna mettere tutte queste cose Dobbiamo trovarle Porca puzzarda Vediamo dove si nascondono queste cose A civicchia Ho quasi paura Direi No no raga 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 Cioè questo è yellow Porca puzzarda Ok Pian piano Io non so se la Il modo per scappare dai rainbow friends Nella vita reale È quello di Inscatolarsi Non credo Ragazzi Siamo davvero in tanto pericolo Perché c'è blu Qui accidenti Allora Io vedo la tanica La vedete È lì Io qua però adesso devo andare a prenderla Però c'è lui C'è yellow raga Adesso questa parte me la faccio Tutta quanta con voi Ehi c'è blu Attenzione che qua Blu Può essere molesto Quando lo vuole purtroppo Cos'è Ok niente Adesso dobbiamo andare a cercare Ah ciao breed Poi c'è C'è green che sta lì Vedete Ma che cavolo sta facendo Sto green del cacchio Per fortuna almeno Non ci prendono gli altri Però green comunque ci può prendere Se andiamo lì Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio No 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 Ok perfetto 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 Forse possiamo andarci Niente brido è stato trovato Ok l'ho trovata raga L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata Perfetto Adesso la devo portare solamente Ok adesso sto mettendo La cosa qua Perfetto Sei pronto? Via Vediamo un attimo cosa ci dice il signore Tecnicamente adesso possiamo usare questa cosa Con tutte queste gas cose Per aprire questa altra porta Vediamo se ci riusciamo Perfavore Perfavore Vai Ok perfetto Cosa è successo? Oh mio dio What? Dove siamo finiti? Dice oh come ci sono arrivato qua sopra Dice ok Proviamo questo di nuovo Ma cosa? No Dovevamo collezionare queste cose adesso Questa volta ci sarà un timer Come un timer? Oh mio dio raga Allora se noi non completeremo Queste cose in un timer Moriremo Mi aveva visto blu per fortuna L'ho scampata Adesso prendo questa testa qua E c'è anche yellow Mamma mia raga aiuto Devo andare da questa parte Così almeno Posso trovare la via giusta Per poter mettere queste teste Anche perché ricordiamoci C'è un timer Io non so A che punto sta il timer Dovremmo effettivamente Vederlo da qualche parte Ho visto una testa Però purtroppo queste teste Se ne vanno Sei brava vai giusta Dai ti prego Il fatto è che queste teste Si muovono anche No raga Ok perfetto Abbiamo messo tutte le dieci teste Adesso vediamo un attimo Cosa ci dice Perché voglio capire Quali sono questi segreti Dice Buon lavoro a tutti quanti Ci dice red Non ho capito cosa vuole red Poi dice C'è questo signore Che scende Per fortuna È vivo In realtà l'odio Cioè volevo che morisse Però Dice Non preoccupatevi Sono ok Non ci sarà un'altra Perdita di tempo Il mio piano Per scappare È fallito Ma Ce n'è un altro In realtà Dobbiamo praticamente C'è una Via d'uscita Dove c'è blu E Dobbiamo trovarla E Insomma Possiamo andare Intorno qua Cosa vuol dire Ok lui farà di tutto Per un pezzo di torta Quindi dovremmo Adesso dovremmo trovare le torte What Cos'è sta cosa raga Ma chi è sto qua Un nuovo dei Rainbow Friends Ciano Questo è il ciano Oh mio dio Dice Mi chiedo perché È così tanto interessata A questo insetto Eh Me lo chiedo anch'io Caro Bros Il ciano se non lo sapete È un colore Bene Abbiamo trovato tutte le cose Adesso Adesso tecnicamente Si è liberata la via Adesso possiamo Andarcene via Proprio di qua Dice Oh ha funzionato Adesso andiamo Pure Bride purtroppo È andato Però è stato un valoroso Combattente Che c'è stato fino alla fine Adesso però Andiamocene via Da questo posto Infernale Maledetto Accidenti Per fortuna Si sta sbloccando Finalmente In un nuovo posto Perché Tipo la prima parte Era veramente infinita Non capisco se questa È una seconda parte Oppure se È finito completamente Vediamo Ho paura che Ci potrebbe essere qualcosa Magari Chi lo sa Tecnicamente Non dovrebbe più Possiamo andarcene signore Dice Ok everybody Ok a tutti Prendete un carrello E Insomma Entrate Ok io ho preso questo Signore Porca puzzarda Ho programmato questo carrello Per andare avanti E mi farà andare Fino all'uscita Ok Praticamente mi ha scritto Che Girarsi così È sicuro Non cado Oh mio dio Dove sono Ragazzi Stiamo andando in un posto Veramente oscuro E strano Non so se preoccuparmi Oppure no Però Sono certo Che siamo Perfettamente capaci Di Fare questa cosa Ok Mi spiegate Che cavolo Dovrebbe essere Questa cosa Ma cosa sto vedendo Cioè Cos'è sta roba Ciao Ciao Via Ok Devo Devo seguirli Via 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 Ok Ok Tranquisto Stiamo strabravi Ragazzi Siamo bravissimi Ok Nella questa parte Facciamo pure la giravolta Si Yuhu Porca puzzarda Ok Vai Ho paura di morire Per un qualche motivo Ah Brutto Per sicurezza Io Mi inclino Così almeno Non dovrebbe esserci Pericolo Di morte Di morte bravi ok adesso dobbiamo solamente andare da questa parte raga è divertentissima questa cosa adesso quale scegliamo deciditi ok andiamo da questa parte vai no 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 c'è iello c'è iello c'è iello brutto ok stanno ovviamente cercando di prenderci perché è pericoloso raga ci sono i diamanti qua che figata dice grazie per aver visitato prendiamo la destra veloce no 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 ok oh oh che succede sono vivo oppure sono in paradiso ah esci esco non ci sono dei misteri qua c'è un cartello no scherzavo no dai 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 no via 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 no 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 scappa mi prude pure il braccio accidenti raga no 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 io c'ho paura di queste cose mi viene l'infarto mio cartico acuto ehi no 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 la rigenerazione non è disponibile ok questo era il finale però raga ah era il finale basta abbiamo forse abbiamo finito così scrivetemi nei commenti se volete che indaghiamo di nuovo i rainbow friends anche su minecraft e su altri giochi guardate questi altri video io